Ciao a tutti, oggi vedremo come riprodurre una cascata. Preparazione mini diorama espositivo. La roccia la realizzerò mediante questi fogli stampati commerciali. La base per realizzare la cascata sarà la pellicola trasparente da cucina. Prepariamo vari spezzoni di pellicola e li applichiamo alla roccia. A questo punto applichiamo dello smatto bianco sulla pellicola trasparente. Ed ecco il risultato finale. Grazie a tutti per l'attenzione, iscrivetevi al mio canale e arrivederci al prossimo tutorial.